Buonasera Milano, aveva provato a giocarsela questa partita l'Inter perché i primi 15-20 minuti sono stati ottimi, mi è piaciuto l'approccio alla gara, in generale comunque direi un buon primo tempo anche se sul finale l'Inter ha rischiato molto, però il Real ovviamente è più forte, è più forte, è più squadra dell'Inter, ha più carte da giocare, infatti mancava Benzema ma sono riusciti lo stesso a portarsi a casa la partita benché Jovic non sia neanche lontanamente a livello di Benzema, l'Inter affronta nel modo giusto la partita perché prova a palleggiare, non ho capito però il cambio di Dumfries, il cambio di Dumfries non l'ho capito perché non aveva mal giocato e soprattutto potrei capire un cambio di Dumfries inserendo, non lo so, Darmian che non è disponibile ma togliere Dumfries e alzare D'Ambrosio secondo me equivale a perdere molto, perdere soprattutto in palleggio, perdere in velocità, D'Ambrosio da quinto ormai non è più proponibile se non in casi di estrema emergenza. Mentre invece avevo capito l'impiego di D'Ambrosio come braccetto di destra innanzitutto per non rischiare De Frey che evidentemente non è ancora così pronto e in secondo luogo per avere la possibilità di arginare meglio Vinicius che comunque sia a inizio gara veniva annunciato come il pericolo numero uno effettivamente è un fenomeno secondo me Vinicius è un grande giocatore. Però da quinto per di più se devi recuperare non è D'Ambrosio, se vuoi provare a recuperare non è con D'Ambrosio che lo puoi fare. Dzeko e Lautaro non mi sono piaciuti neppure il primo tempo ma anche lì restare col solo Sanchez anziché con uno tra Dzeko e Lautaro dovendo giocare in dieci e restando con una sola punta io cercherei di restare solo con Dzeko tendenzialmente o al limite solo con Lautaro. Sanchez non è più una punta da anni ormai, è un trequartista, un giocatore di qualità però non è uno che è in grado di far salire la squadra quindi ci siamo portati il Real ancora più vicino alla porta, hanno iniziato dall'espulsione di Barella evidentemente ma già dal secondo tempo direi hanno iniziato a palleggiarci in faccia e a far valere la maggior qualità quindi io veramente non ho capito i cambi, non ho capito neppure il cambio di Brozovic che per me non deve uscire mai in una situazione del genere perché cedi completamente in uno in meno con D'Ambrosio togliendo anche Brozovic cedi completamente il palleggio al Real e loro sono fortissimi nel palleggio poi non si può dare spazio a certa gente perché il gol di Kroos è un gol di grandissima qualità tra l'altro è un destro cross ma se gli lasci spazio per aggiustare la mira lui ti punisce. Anche Assensio nel secondo gol ma puoi mai dare tutto quello spazio a uno che penso che ormai lo conoscano tutti, non c'è bisogno di presentazioni per Assensio e sicuramente non è stata una buona idea, non è stata una buona idea, ci è costata molto cara però bisogna dire che Real ha fatto due grandi gol, perlomeno non sono stati dei gol banali, figli d'accordo anche di errori perché dicevo non si può lasciare spazio però hanno avuto bisogno di fare un gran tiro nel primo gol e un tiro da fantascienza nel secondo. Capitolo Barella, allora io sono andato avanti tutta la partita perché l'ho vista al bar a lamentarmi di Militao dicendo che, vabbè dicendo delle cose che è meglio non ripetere nel video, comunque in sostanza dicendo che abbiamo di fronte il nuovo Pepe, anche se secondo me Pepe era meglio almeno per adesso, però Militao comunque un giocatore forte e Pepe segnava anche qualche gol in più di Militao mi pare, ma se Barella non avesse reagito sarebbe stato ammonito Militao e sarebbe finita lì la cosa, poi aggiungiamoci che mi sembra un rosso anche esagerato perché va bene la reazione va punita però insomma non è che abbia fatto chissà che. Poi gli arbitri in Europa sappiamo come si comportano specialmente con Real, specialmente a Madrid, ma praticamente si comportano un po' come si comportano con la Juve in Italia, quindi a maggior ragione Barella non era il caso che reagissi, anche perché adesso affrontare gli ottavi da secondi con un sorteggio complicato per di più senza avere a disposizione Barella diventa una cosa un po' complicata perché comunque sia con chi lo sostituisci Barella? Con Vidal? Con Gagliardini? L'unica speranza è Vessino, magari che possa essere in forma Vessino in quel momento, non può garantire ciò che garantisce Barella però può garantire un lavoro diverso, comunque Vessino è uno che ha le due fasi, ti dà anche secondo me qualcosa in più di Barella in zona goal, quindi speriamo che ci sia Vessino in forma in quel momento altrimenti la vedo dura. Certo che pretendere di passare la liscia su una cosa del genere con Real Madrid è dura, cioè Real Madrid è una squadra che è riuscita a rubare anche alla Juve perché ce lo ricordiamo tutti che in finale di Champions League molti anni fa c'è stato un gol di Miatovic nettamente in fuorigioco e Real Madrid ha vinto così quella coppa contro la Juve, altrimenti magari avrebbe vinto lo stesso però fatto sta se hanno vinto 1-0 con un gol in fuorigioco c'è poco da obiettare no? Vabbè come ultima cosa dico che gli ottavi raggiunti sono un grande risultato, tanti anni che l'Inter non non passava agli ottavi però in un girone del genere secondo me è il minimo sindacale andare agli ottavi, cioè il risultato di prestigio sarebbe stato andare da primi agli ottavi ma tanti anni che non si andava ok però Spalletti, l'Inter di Spalletti ha flopato in casa col PSV, se vinci la partita col PSV vai agli ottavi ed era l'Inter di Spalletti, Conte addirittura è arrivato quarto, bastava comunque battere lo Shakhtar, quindi io dico contento per gli ottavi raggiunti finalmente però ci mancherebbe altro anche mi vien da dire. Va bene, allora il video finisce qui, un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!